Partirà il 25 luglio la call della quarta edizione di Start Cup Abruzzo rivolta a start-up e spin-off che concorreranno per aggiudicarsi premi della business competition mirata a favorire la creazione di nuove imprese selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico provenienti da università ed enti di ricerca locali. Novità di quest'anno sarà l'occasione di partecipare ad un'ulteriore tappa della competizione, il premio Startup Visionaria 2022 articolato nelle due sezioni idea impresa e start-up. Lo sponsorizziamo, lo realizziamo, quest'anno sarà arricchito anche molto perché lo facciamo partecipare poi a Visionaria che è un progetto della Camera proiettato alle idee, proiettata all'innovazione, proiettato per lo sviluppo del territorio. L'Agenzia di sviluppo nell'ambito del premio con la Start Cup Academy organizzerà e seguirà dei corsi rivolti proprio agli aspiranti, imprenditori, a coloro che hanno avviato impresa, mettendo a disposizione dei professionisti all'interno, dei model designer che hanno finalizzato un corso di formazione con il nostro partner, che è un partner nazionale Bipol, che si occupa appunto di formazione degli aspiranti imprenditori e noi ci saremo e ce la metteremo tutta. Ovviamente anche portando all'interno di questa esperienza il ruolo consolidato che l'Agenzia di sviluppo ha all'interno della rete Enterprise Europe Network. Start Cup Abruzzo, che arriva quest'anno a celebrare la sua quarta edizione, è una business plan competition all'interno del sistema universitario e della ricerca abruzzese. In pratica è una competizione delle idee di impresa e progetti di innovazione all'interno del sistema universitario, che coinvolge sia l'Università di Chiedi Pescara, ma anche l'Università dell'Aquila, l'Università di Teramo, il Gran Sasso Science Institute e l'Istituto Zooprofilattico Caporale di Teramo. L'obiettivo è quello appunto di sostenere i progetti innovativi e i progetti di start-up, quindi di imprese innovative che nascono dalla ricerca e dalle esperienze dei ragazzi universitari.